Black Meat Wukong, quando fu annunciato nel 2022 fu davvero incredibile, scalpore e tantissimo hype per questo videogioco. Un videogioco che avrebbe dovuto mostrare al mondo come la Cina con furore si stava addentrando in maniera incredibile con progetti importantissimi all'interno del mondo dei videogiochi. Bene, questo doveva essere il primo. Uscì un bellissimo gameplay in Unreal Engine 4 e tutti pensavamo che, vedendo la qualità di quel lavoro da lì a poco, il progetto sarebbe arrivato. Ma il titolo è stato posticipato, posticipato, posticipato. Il problema? Passare all'Areal Engine 5 e finalmente la data definitiva, come state vedendo, è arrivata. 20 agosto 2024 e questo videogioco arriverà nelle nostre console e nei nostri PC. Ora, la domanda che tutti si stanno ponendo è, wow, sembra incredibile, sembra fantastico, ma davvero i cinesi sapranno e saranno in grado di entrare a gamba tesa nel mondo dei videogiochi con questi progettoni, con la Real Engine 5 e con tutti i videogiochi che ci ha elencato, ma soprattutto tutti noi vediamo che questo videogioco assomiglia moltissimo a un Dark Souls che grazie a bellissimi capitoli tutti vogliono creare il loro Souls-like. Avanti, non prendiamoci in giro. Quando l'abbiamo visto, tutti noi abbiamo detto, sì, sarà un clone, ma questi cloni, queste idee, molti ve ne ho raccontati in questo canale, saranno in grado di uscire un attimino dal globo di titoli fatti giusto così? Saranno in grado di distinguersi dalla massa? Saranno in grado di mettere un nuovo tassello nell'evoluzione dei videogiochi? Lo scopriremo, perché quest'oggi entreremo in Blackened Woodkong, ne parleremo un attimino, parleremo del suo gameplay, parleremo delle sue peculiarità e ci faremo anche una bella peppetta mentale davanti a un bel bicchiere di prosecco domandandoci se quell'industria, l'industria cinese, che arriverà e sta già arrivando sarà in grado di entrare anche nei cuori dei videogiocatori. Amici, lo scopriremo e ne parleremo. Benvenuti su Top of Gaming. Come dicevo all'inizio di questo video, i cinesi avevano un'idea bella chiara in testa a creare i loro souls-like. Dark Souls, Bloodborne, sono titoli che hanno attirato tantissimo i videogiocatori. Un po' per le loro ambientazioni coupe, un po' perché i videogiocatori volevano avere un videogioco difficile. E quanti cloni non sono usciti negli anni che poi ci siamo dimenticati? Basti pensare a Lords of the Fallen, il remake è andato un pochetto meglio, ma poi gli altri? Basti pensare ad altri titoli copia e incolla. Basti pensare anche agli stessi Dark Souls, di cui alcuni non è che siano andati proprio bene, 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 anche se molti di noi li definirebbero dei veri e propri capolavori. Bene, cosa hanno fatto i cinesi per questo progetto e anche per tanti altri che vi ho parlato? Hanno preso dei concept molto belli e fruibili, come potrebbero essere i Dark Souls per questo videogioco, ma come vi ho elencato di alcuni altri titoli che hanno rubato da Anthem, o da The Division, o dai giochi stealth. Bene, l'industria cinese è stata importantemente foraggiata dallo stesso governo e anche da Sony per creare un grandissimo hub, una specie di hub collettivo, una conoscenza collettiva, un know-how si dice in termini tecnici, e cioè la possibilità di poter utilizzare tutti, un solo motore grafico, essenzialmente per creare il loro videogioco, e già questo è stato una fonte importante di risparmio per la creazione dei videogiochi, che noi sappiamo attualmente essere incredibilmente dispendiosa, e dopodiché fare in modo tale che gli sviluppatori si mettessero lì, imparassero a utilizzare questo motore sempre di più e le loro conoscenze messe a disposizione degli altri sviluppatori. Morale della favola, cos'è venuto fuori? È venuto fuori quello che state vedendo in questo preciso momento, un titolo in Unreal Engine 4, partito come Unreal Engine 4, ma che poi si è evoluto in Unreal Engine 5. Non aveva significato posticipare questo videogioco di anni e di mesi in mesi solo per passare di engine, sebbene sia meraviglioso, ok? Ma in sé per sé avrebbe venduto benissimo anche in Unreal Engine 4. Ci sono titoli, come ad esempio, mi viene in mente, Helldivers 2, o altri titoli sviluppati da Bioware, eccetera, eccetera, che non hanno l'Areal Engine 5, ok? Eppure, dal punto di vista grafico, sono incredibili, meravigliosi, bene, per cui hanno voluto strafare. Non ce n'era assolutissimamente motivo, ma appunto per questo switch, per queste possibilità anche economiche, è stato fatto il passaggio. E bisogna anche dirlo, il passaggio è davvero molto ben fatto. Ottimare. Ora bisogna cercare di capire un attimino, però, come si vuole gestire un videogioco dalla Cina con furore. Che cosa intendo? Beh, intendo che sicuramente vedendo i combattimenti voi avrete capito che qui, dal punto di vista della personalizzazione inteso come, che ne so, armatura pesante, leggera, farsi tank, oppure fare il dual wielding, queste cose, in questo videogioco non vi sarà concesso. Assomiglia molto di più a un Bloodborne, ok? Dove sicuramente ci sono le armature della nostra scimmia, ma in sé per sé si tratta moltissimo di schivare, parare e attaccare. E gli attacchi hanno un... del bastone, lì si vede che hanno determinati tipi di intensità, ok? Arriva il bastone di fuoco, arriva il bastone che fa una sferzata in avanti, il bastone che gira e para, e vediamo anche la nostra scimmia scimmia che prende forme differenti, ok? In una parte prende la forma di uno scarabeo che va in giro ad osservare quello che succede attorno, ma dal punto di vista del combattimento si vede la nostra scimmia che si trasforma in un super scimmione, capace di affrontare grandi gruppi di nemici. Ed ecco anche qui la differenza, come dicevo, in sé per sé in Bloodborne era difficile affrontare grandi matasse di nemici. Ma nel gameplay che abbiamo visto di Black Meat ce ne sono, e neanche così pochi, ok? Ci sono mostri che ne richiamano altri, ci sono aree abbastanza larghe. Certo, ci sono i boss potenti e incredibili, a più fasi. Le differenze quindi non sono così tante, non sono così articolate, pompose, sfarzoso e volute per farvi dire wow che gioco fantastico e innovativo. No, si tratta di semplici accorgimenti che rendono il titolo leggermente diverso dalla sua idea originale, appunto Bloodborne. In questo titolo sono state aggiunte delle trasformazioni, sono state aggiunte un po' più di schivate ed sono state aggiunte delle combo. Insomma, nulla di straordinario. E questo dovrebbe essere un punto negativo. Non fraintendete l'idea che ho di questo videogioco. Secondo me la Cina con furore e dei suoi videogiochi che vi porto qua sul canale hanno davvero la magari non così tanta voglia evolutiva, ma sicuramente la voglia di portare dei titoli con delle meccaniche leggermente rivisitate. Questo in qualche maniera ci fa sentire il gusto di qualcosa di già vissuto, ma allo stesso tempo perché no rivivere un titolo vicino a Bloodborne. Appunto, come dicevo, questo non è un sentore negativo. È semplicemente un gusto di già visto. Ma potrebbe anche essere un gusto che piace, che vorreste riprovare in una salsa leggermente, leggermente diversa. Ed è appunto qui con un progetto ribadisco uscito nel 2022 e in uscita nel 2024, in soli due anni, arriva sulle nostre console con questa qualità e con questa portata. Di Bloodmic Wukong comunque non ne sappiamo moltissimo, ok? La critica specializzata, ancora, una demo, non l'ha ancora provata. Oppure non sappiamo quanto sarà lungo, non sappiamo quante tecniche e l'albero delle possibilità ha la nostra scimmia, non sappiamo il livello di difficoltà, non sappiamo tantissimo di questo videogioco, perché la comunicazione, là in fondo, è davvero scarna all'osso. L'unica comunicazione che fanno è attraverso dei gameplay, di cui non sappiamo neanche molto bene dove girano e come girano e a quanti frame girano e con che risoluzioni girano. Insomma, tutto questo per dirvi che Bloodmic Wukong è sicuramente un titolo attesissimo. Era il titolo che io attendevo, era quello che avrebbe dovuto iniziare a dimostrare a tutti cosa la Cina era in grado di fare, non solo copiare, ma portare una piccola, leggera modifica all'interno di importanti videogiochi. E bisogna essere sincero, sembra che ci sia riuscita a pieno. Insomma, di questo videogioco non ne sappiamo moltissimo. La critica specializzata, ad esempio, non ha ancora ricevuto una demo, è stata invitata a provarlo in maniera abbastanza corposa. Allo stesso tempo, tutti noi lo sappiamo, in Cina copiano, 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 copiano. E appunto molti pensavano e pensano che questo videogioco sia solo copiatura, con l'aggiunta di una leggera salsa e niente di più. Sarà davvero così? Non sarà davvero così? È chiaro che la comunicazione da quelle parti è assente, perché a noi manca sapere quanto è grande questo videogioco, a noi manca vedere la mappa, a noi manca vedere l'albero delle abilità della nostra scimmia, a noi manca ancora sapere la difficoltà di questo videogioco, se settabile, quanto è lungo, ma soprattutto la grafica in questione, dove girava, su che console, a quanti frame, in che risoluzione, cosa ci porterà? Ci saranno DLC? Quanto è la rigiocabilità? C'è un game plus? L'ultima domanda che vi pongo, come sempre, è meriterà o non meriterà? Sarà un qualcosa che decreterà l'inizio dei videogiochi cinesi, oppure un progetto mediocre, che non riuscirà a rubarci neanche un pezzettino del nostro cuore e del nostro tempo? Poco tempo manca, agosto 2024, dietro l'angolo, e noi saremo qui a provare questo videogioco e a raccontarvi tanti altri progetti cinesi. Spero quindi che questa miasma, questa navigazione, questa bevuta di prosecco all'interno di un gioco made in Cina, con furore, vi abbia fatto piacere, se così fosse lasciate un like e un'iscrizione. Al prossimo megavideo, ciao!